Sì, diciamo che ci avevo provato qualche volta in quelle poche partite che avevo giocato, sono riuscito, ho cercato di mettere in pratica le idee del mister, più o meno ci sono venute e niente, sono contento per il primo gol, per la prestazione, per il risultato, è chiaro che c'è da lavorare, però diciamo pensiamo positivo e continuiamo a lavorare così. Come ti trovi da esterno? Bene, diciamo che io ho sempre fatto quel ruolo, a parte l'anno scorso che a Bellinzago ho fatto il trequartista per un adattamento di modulo, però io nasco da esterno del 4-3. Per me le partite sono importanti tutte, qua la nostra forza penso che sia il gruppo e qui siamo tutti utili e nessuno è indispensabile secondo me. Tutti lavoriamo durante la settimana e credo che l'esultanza sia stata il fatto che io ero quasi più contento per Giovio come se avessi fatto Golio, quindi questo sta a significare che siamo un bel gruppo e che ci aiutiamo quando uno non gioca, quando gioca, questo non è importante, l'importante è che remiamo tutti dalla stessa parte. Queste sono scelte della società, noi facciamo quello che ci dicono di fare, è arrivato un allenatore giovane con voglia, ci ha dato entusiasmo e noi lavoriamo per cercare di fare quello che ci dice l'allenatore e penso che oggi qualcosina si è visto anche se secondo me c'è ancora da lavorare tanto e potremmo dare molto di più sicuramente. Sicuramente.